De Camerone, sesta giornata, settima novella. Madonna Filippa, dal marito con un suo amante trovata, chiamata in giudicio, con una pronta e piacevole risposta, si è libera e fa lo statuto modificare. Già si tacea la fiammetta, e ciascun rideva ancora del nuovo argomento dallo scalza usato a nobilitare sopra ogni altro i baronci. Quando la reina ingiunse a Filostrato che novellasse, egli a dir cominciò. Valorose donne, bella cosa è in ogni parte saper ben parlare, ma io la reputo bellissima, qui vi saperlo fare, dove la necessità i richiede. Il che si ben seppe fare una gentil donna, della quale intendo di ragionarvi, che non solamente festa e riso porsi agli uditori, ma se dei lacci di vituperosa morte li sviluppò, come voi lo direte. Nella terra di Prato fu già uno statuto, nel vero non men biasimevole che aspro, il quale, senza alcuna distinzione far, comandava che così fosse arsa quella donna che dal marito fosse con alcun suo amante trovata in adulterio, come quella che per denari con qualunque altro uomo stata trovata fosse. E durante questo statuto avvenne che una gentil donna e bella, e oltre ogni altra innamorata, il cui nome fu Madonna Filippa, fu trovata nella sua propria camera una notte da Rinaldo de Pugliesi, suo marito, nelle braccia di Lazzarino de Guazzagliotri, nobile, giovane e bello di quella terra, il quale ella quanto se medesima amava. Da qualcosa Rinaldo vedendo, turbato forte, appena del correr loro addosso ed uccidergli si ritenne. E se non fosse che di se medesimo dubitava, seguitando l'impeto della sua ira, l'avrebbe fatto. Rattemperatosi adunque da questo, non si potè temperare da voler quello dello statuto pratese che a lui non era licito di fare, cioè la morte della sua donna. E perciò, avendo al fallo della donna a provare assai convenevole testimonianza, come il di fu venuto, senz'altro consiglio prendere, accusata la donna, la fece richiedere. La donna, che di gran cuore era, siccome generalmente esser soglion quelle che innamorate son da dovero, ancora che sconsigliata da molti suoi amici e parenti ne fosse, del tutto dispose di comparire e di voler piuttosto la verità confessando con forte animo morire che vilmente fuggendo per contumacia in essilio vivere. e negarsi degna di così fatto amante come colui era nelle cui braccia era stata la notte passata. E assai bene accompagnata di donne ed uomini, da tutti confortata al negare, davanti al podestà venuta, domandò con fermo, vise con salda voce, quello che egli a lei domandasse. Il podestà riguardando costei e veggendola bellissima e di maniere laudevoli molto, e secondo che le sue parole testimoniavano di grande animo, cominciò di lei aver compassione, dubitando non ella confessasse cosa per la quale lui convenisse, volendo il suo non osservare, farla morire. Ma pur, non potendo cessare di domandarla di quello che opposto l'era, le disse, Madonna, come voi vedete, qui è Rinaldo, vostro marito, ed uolsi di voi, la quale gli dice che ha con altro uomo trovata in adulterio. E perciò domanda che io, secondo che uno statuto che ci è, vuole, facendovi morire, di ciò vi punisca. Ma ciò far non posso se voi non confessate. E perciò guardate bene quello che voi rispondete e ditemi se vero è quello di che vostro marito va accusa. La donna, senza sbigottire punto, con voce assai piacevole, rispose, Messere, egli è vero che Rinaldo è mio marito e che egli questa notte passata mi trovò nelle braccia di Lazzarino, nelle quali io sono, per buono e per perfetto amore che io gli porto molte volte è stata. Né questo negherei mai. Ma come io sono certa che voi sapete, le leggi devono essere comuni e fatte con consentimento di coloro cui toccano. Le quali cose di questa non avvengono, che essa solamente le donne da pinelle costrigne, le quali molto meglio che gli uomini potrebbero a molti soddisfare. e oltre a questo non che alcuna donna quando fatta fu ci prestasse consentimento, ma niente ce ne fu mai chiamata, per le quali cose meritamente malvagia si può chiamare. E se voi volete in pregiudicio del mio corpo e della vostra anima essere di quell'esecutore, a voi sta. ma avanti che alcuna cosa giudicare procediate, vi priego che una piccola grazia mi facciate, cioè che voi il mio marito domandiate se io ogni volta e quante volte a lui piaceva, senza dir mai di no, io di me stessa gli concedeva intera copia o no. A che Rinaldo, senza aspettare che il Podestà il domandasse, prestamente rispose che senza alcun dubbio la donna a ogni sua richiesta gli aveva di sé ogni suo piacer conceduto. Adunque, seguì prestamente la donna, domando io voi, Messer Podestà, se egli ha sempre di me preso quello che gli è bisognato e piaciuto, io, che doveva fare o debbo di quel che gli avanza, debbo lui ogittare a cani, non è egli molto meglio servirne un gentile uomo che più che se mama che lasciarlo perdere o guastare. erano qui a così fatta esaminazione e di tanta e si famosa donna quasi tutti i pratesi concorsi le quali udendo così piacevole domanda subitamente dopo molte risa quasi una voce tutti gridarono la donna aver ragione e dir bene e prima che di qui vi si partissero a ciò confortandogli il podestà modificarono il crudele statuto e lasciarono che egli si intendesse solamente per quelle donne le quali per denari a loro mariti facessero fallo per la qualcosa Rinaldo rimaso di così matta impresa confuso si partì dal giudicio e la donna lieta e libera quasi dal fuoco risuscitata alla sua casa se ne tornò gloriosa grazie grazie